La fabbia all'interno del gruppo Banco Desio. Il gruppo Banco Desio è una realtà di una banca locale, ma ben diffusa sul territorio, ben patrimonializzata e che ha una tradizione ultracentenaria. Il Banco Desio in questo momento, come tutte le banche, sta un po' soffrendo la situazione economica, ma sicuramente meno e meno drammaticamente dei grandi gruppi che hanno problemi molto maggiori. Il Banco Desio fino adesso con politiche di equilibrio e di molta lungimiranza ha una situazione economica sicuramente migliore di altre. Chiaro che per l'anno 2013 anche qui bisognerà vedere cosa poi succederà a livello nazionale, per non dire a livello europeo, e quindi puoi vedere a livello del nostro gruppo come la situazione si dipanerà. Di importante per la fabbia è successo in questo ultimo anno che, grazie al lavoro svolto sia dal sottoscritto che dall'altro rappresentante aziendale, il collega Vincenzo Arcuri, abbiamo aumentato molto il numero degli iscritti all'interno del gruppo e soprattutto siamo riusciti a ricostituire la RSA aziendale nello scorso mese di novembre. RSA che all'interno del gruppo mancava da più di tre anni, quindi la ricostituzione di questa RSA per la fabbia di Milano ha portato ovviamente non solo a istituzionalizzare il ruolo del sindacato all'interno dell'azienda, ma a aumentare il potere politico e contrattuale della Fabi stessa all'interno del gruppo Banco Desio. Inoltre, grazie sempre alla collaborazione dei colleghi della Fabi Milano, è stato aperto ancora nello scorso mese di novembre il sito Banco Desio all'interno, quindi il link del gruppo Banco Desio all'interno del sito Fabi Milano. Anche questo è molto importante e utile perché sono stati caricati tutti gli ultimi importanti accordi sindacali, nonché una copia del contratto integrativo aziendale, che è importante che tutti i colleghi possano avere, consultare. Quindi anche questo ha portato sicuramente a un beneficio per la Fabi e per i colleghi iscritti e non del gruppo. La Fabi, ovviamente, essendo l'organizzazione sindacale più rappresentativa sul territorio nazionale, lo è tra le più rappresentative all'interno del gruppo. Detto ciò, come sindacato abbiamo in discussione con l'azienda ancora alcuni importanti argomenti che fanno parte dell'integrativo, tra cui il fondo pensione complementare, la rivisitazione dei ruoli di filiale alla luce di una ristrutturazione delle filiali e del modo di lavorare in filiale che è avvenuta proprio all'inizio di questo anno 2012, nonché la nomina dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, che sono ancora un po' in sospeso. Sono tutti argomenti che stiamo trattando con l'azienda, la quale azienda oltretutto ha da poco rinnovato i verci direzionali e quindi ci aspettiamo a breve di essere convocati dai nuovi interlocutori, il capo del personale piuttosto che l'amministratore delegato, che sono tutti di recente nomina, per continuare a portare avanti le politiche sindacali in interesse di tutti i 1800 e più lavoratori del gruppo.